È un giorno importante per l'AIL di Arezzo che inaugura la propria nuova sede, un traguardo raggiunto dopo tanti anni di attività che continua dando un punto di riferimento a chiunque ne abbia bisogno. Devo dire che sono orgoglioso di inaugurare questa sede oggi perché dal 2009 in cui come direttore dell'Unità Operativa di Amatologia mi sono adoperato con l'aiuto della famiglia di Federico Luzzi, in particolare la signora Paola, per avere questa sede di un'associazione nazionale molto importante che vede in quasi tutte le città italiane avere appunto una sede e fare delle attività in collaborazione con l'ASL, in collaborazione con la ricerca scientifica in ematologia. Finalmente abbiamo anche una sede dignitosa in cui la gente può venire a trovarci e possiamo anche far capire tutte le nostre attività e tutte le nostre, come dire, future anche possibilità nel campo dell'ematologia. Lei dottore ha parlato di ricerca, sono stati fatti dei passi in avanti significativi in questo ambito specifico? Direi in ematologia è uno dei campi insieme all'oncologia che ha avuto i più forti scoperte nell'ambito non solo della terapia ma anche di tutte altre branche, proprio della ricerca pura in ematologia e questo anche per merito dell'AIL.